Si svolgerà a Fano all'interno della Mediateca Montanari dal 7 al 24 aprile la decima edizione di Storie straordinarie in tutti i sensi, ovvero una serie di incontri, appuntamenti, mostre e laboratori dedicati alla cultura della diversità, della disabilità e dell'inclusione. L'iniziativa presentata questa mattina vede un nutrito programma tra letture, momenti di svago per bambini, visione di cortometraggi e documentari, presentazione di libri e incontri con le associazioni che operano nel settore dell'inclusione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e il programma completo è visibile sul sito del sistema bibliotecario di Fano. È un'iniziativa che vede l'incontro tra il mondo della scuola, quello delle biblioteche, dell'associazionismo diffuso e ovviamente degli enti locali. Otto appuntamenti dal 7 al 24 di aprile con una mostra di libri speciali alla Mediateca Montanari con cui proveremo appunto a dipanare il racconto di una storia, quella dell'inclusività che nella nostra città ha delle radici profonde. 10 edizioni, 10 edizioni che hanno anche cambiato la percezione della diversità all'interno della nostra comunità e ovviamente per noi è sempre un piacere che sia la seconda piazza di Fano, cioè la Mediateca Montanari, ad essere ancora una volta il cuore di un'esperienza così grande. Grazie 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 Grazie